Dio ha creato l'universo, ma la sua creazione non ha fine perché continuamente sostiene quello a cui ha dato vita e la sua opera continua anche con Gesù, che viene a ricreare quello che era stato rovinato dal peccato. Lo ha ricordato Papa Francesco celebrando la missa nella cappella della Casa Santa Marta. Soffermandosi sulle letture del giorno, il Pontefice ha aggiunto che esiste anche un altro lavoro, quello della perseveranza nella fede, operato dallo Spirito Santo. Auspicando che i discepoli del Signore siano sempre sulla strada della riconciliazione interiore, Papa Bergoglio ha infine ricordato la responsabilità che i cristiani hanno nella tutela del creato. Quando noi sentiamo che c'è entesi, fa riunioni per pensare come custodire il creato, possiamo dire ma no, sono i verdi. No, non sono i verdi. Questo è il cristiano. È la nostra risposta alla prima creazione di Dio. È la nostra responsabilità. Un cristiano che non custodisce il creato, che non lo fa crescere, è un cristiano che non importa il lavoro di Dio. Quel lavoro nato dall'amore di Dio per noi. E questa è la prima risposta alla prima creazione, custodire il creato, farlo crescere.